E rieccomi ragazzi, scusate No, non lo so, è Lenuzza, cioè, o è un palazzo, o era... Cioè, no, no Cioè, no... Eeeh, Tommy, buongiornissimo, ben arrivato Come la va, Tommy, tutto bene? Cioè, o stavamo nel metaverso? Oh, no, no, non lo so Ancora con un po' di tosse, Tommy Però, per il resto tutto bene Di cosa stavamo parlando? Ok E fino a qua lo sapevamo Ah, ah, era lui il colpevole Quindi era lui quello che ha ucciso Il padre di Haru E' davvero, Tommy? E' davvero, Tommy? Ok E' infatti, e questo va bene Questo lo sapevamo Lo sapevo che ero un maniaco Omicida Se si vedeva proprio da Keshine Non mi sono mai fidato di lui E' pizzetto malvagio Shido Ok Ok Però io devo capire come ci siamo salvati dal Cioè, voglio proprio la spiegazione Del proiettile Ciao, carta Grazie ad essere passata Più tardi E sarebbe Futaba Eh, infatti Ti ha ucciso quello del palazzo Però come abbiamo fatto a Cioè, ok Ha senso Ma come abbiamo fatto A starne lo stesso posto Ah Eeeh Non lo so Tommy Non lo so La premessa è carina Ma Aspetterò un attimo Lo voglio vedere per bene Cioè, scusa Cioè, scusa Quello Cognitivo Cioè, quello del metaverso Dovrebbe esistere solo all'interno del metaverso Giusto? Quindi quella stanza Doveva essere all'interno del metaverso Cioè, scusa Eeeh Eeeh direi proprio di no veramente c'è una parte che mi oscura anche a me Cesare praticamente lui ha ucciso Akechi non ha sparato a noi ma ha sparato al noi alla versione cognitiva di noi però il discorso cioè è tipo una versione finta come quelle che si vedevano tipo le proiezioni che si vedevano anche degli altri negli altri palazzi tipo quella di Anne nel primo palazzo e via dicendo però c'è una cosa che non mi torna in teoria la versione di noi cognitiva dovrebbe esistere soltanto all'interno di un palazzo o meglio all'interno del metaverso quindi significa che la stanza dove è entrato Akechi era all'interno del metaverso e forse c'è passato quando Sai ha mostrato il telefono forse gli ha fatto vedere il telefono e lui è passato nel metaverso e quindi non se ne è accorto forse e Sai ci ha portato fuori poweroso giro eh infatti stava nel metaverso ok però mi sa che ci è passato quando Sai ha mostrato il telefono e si esatto Cesare la gente pensa che noi siamo morti ciao Eleonuzza grazie mille di essere passata alla prossima Grazie mille di essere passata ma Cosa? Cosa che abbiamo chiesto dei conciutati. È per il loro pezzo. Il loro è per il loro pezzo? Sì. Cosa? Cosa che ci hai? Cosa? Cosa che ci ha fatto? Ma... Cosa che ci hai detto? Cosa che mi ha fatto? era troppo sospetto effettivamente il nostro cadavere non c'è più adesso Cesare e molto probabilmente gliel'ha detto Akechi che abbiamo sparato alla guardia e poi ci siamo suicidati ma in verità la guardia neanche esisteva quindi finalmente arriverà il momento in cui a Akechi gli daremo tante quelle botte ragazzi allora Akechi pensa di averci ucciso e quindi avrà comunicato a tutti quanti che noi ci siamo suicidati in verità tra poco dovrebbero scoprire che non è vero perché non ci sono cadaveri non non c'è nessuno da, 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 è vero non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno ok ok io però questa scena non c'è nessuno non c'è nessuno ma c'è nessuno ahà è vero è vero lo potevano scoprire subito lo potevano scoprire subito no che forza che forza ah e quando gli ha preso il telefono al volo ragazzi si si a noi cionde scegliere sospetto no me tante mo soso si no a no no ah lì non chi ne va te la giri 確定 si no 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 Grazie a tutti. Eh sì, è proprio un grande bastardo questo giro. Dannato Akeshi. Ma... Mamma mia quanto gli faremo male ad Akeshi ragazzi. C'è un giocatore di giocatore, ma è un giocatore di criminali. E anche, c'è un giocatore che c'è l'interno dell'Akechi. Il giocatore ha avuto una forte leggera di giocatore di giocatore. E quindi, prima di farlo, ho avuto da l'interno. E infatti l'hanno fatto entrare dentro il palazzo di Sae. C'è un po' di questo. Ok Eh, è stata una grande idea, è vero. Eh, 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 eh. No, beh, l'importante è che adesso sia cambiata, sai. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. E questa è la parte, diciamo, che mi ha un po' più confuso. Oh, forza. Eh, eh. Sì, ma... Eh, ok. Sì, ma... Sì, ma c'è qualcosa che non mi torna in tutto questo. Cioè, una volta... Se loro già avevano preso il tesoro, il palazzo sarebbe dovuto crollare. E secondo me quello è successo quando lei ha mostrato il telefono. Sì. 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 Ma... Sì. 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 È che è horicolo il rispetto. Sì. ...e non ho capito... ...che il leader del palazzo ha detto la verità, e lo hanno detto che c'è stato il suo caso. ...e l'ultimo, sono decisamente la victoria. ...che l'ultimo, è per cui si tratta la mia esperanza di sottotitare il tuo corpo. ...e l'ultimo. E' stato anche la mia famiglia in quel momento. ...che la mia famiglia è stata sottotitola. però ancora non abbiamo capito che fa il potere che ci ha sbloccato di Sae e infatti vedi la polizia non l'ha mai controllato il cadavere ah vedi il coroner ha fatto direttamente un certificato di morte falso è stato un'occhiata ma è stato un'occhiata e non è stato un'occhiata ma è stato un'occhiata e un'occhiata Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Eh ma sono tutti praticamente Grazie Makoto Che è stata una passeggiata Eh Oh ma che gentili Oh ma che gentili Oh ma che E' un po' di meravigliosi, quindi è un po' di meravigliosi. Sì, guardate! Mi sento un po' di meravigliosi, ma mi sento un po' di meravigliosi. Ma non è vero che vivi, ma non è un po' di meravigliosi. Ora, per me, è stato un po' di meravigliosi. Quindi praticamente adesso dobbiamo... Molto Leonardo, molto contorto. Quindi praticamente adesso dobbiamo andare... Prima contro Akeshi e poi contro... Shido? Si chiama Shido, giusto? Mi sembra si chiami Shido? Mi chiedo se... Dovrebbero avere tutte e due dei palazzi. Mi sembra... Mi sembra... No... Mi sembra molto attraverso. Qualcuno mi chiede. a che percentuale non ne ho la più pallida idea Leonardo perché non l'ho mai giocato quindi non so quanto possa mancare alla fine diciamo che oramai abbiamo praticamente cioè il pizzetto malvagio che dovrebbe chiamarsi Shido si è scoperto che praticamente è lui il capo dell'organizzazione anche se già lo sospettavamo e gli altri praticamente sono morti tutti perché il direttore dell'unità speciale di investigazione è morto quindi praticamente apparentemente sono rimasti solo Akeshi e questo Shido quindi diciamo che ci avviciniamo dovremmo essere vicini alla fine Leonardo il problema è che come faccio adesso eccolo pizzetto malvagio Shido a meno che Shido non uccide direttamente adesso Akeshi tanti infarti ultimamente ah già è vero perché lui verrà anche eletto ora anche la risata malvagia da cattivone ah quindi molto rapidamente come scadenza avremo il giorno dell'elezione eh sì finalmente possiamo picchiare Akeshi eh questo sarà difficile però se noi ha un mega palazzo un per farsi per farsi leggere è ok quando ci hanno incolpato quindi praticamente ha fatto causare le crisi psicotiche per mettere in crisi il governo attuale si è schierato contro di noi quando eravamo famosi nel senso buono e poi ci ha fatto incolpare così siamo diventati malvaggi e così lui ha guadagnato ulteriore popolarità ovviamente si opponeva da prima furbo il tipo ah e vabbè questa è una bella rivelazione però già lo sospettavamo che era stato uscito a prendere la ricerca della madre di Futaba hai scena siamo a corte bella Chissà Akeshi come ha fatto ad entrare la prima volta nel metaverso Chissà come ha fatto, è una bella domanda Quindi molto probabilmente Akeshi lo affronteremo dentro al palazzo di Shido Ah Ah quindi praticamente andiamo direttamente là di Akeshi ma io vi voglio indicare di Akeshi ma io vi voglio indicare di Akeshi è vero ma cioè io è infatti è Il mio padre ha detto che è stato riuscito a casa per il tempo. Certo, mi sono state riuscite a l'applicazione. Quindi non lo so. Non lo so, non lo so. Questa cosa è vera? Per questo, non ci sono un altro progetto di Akechi. Ok. 自殺なんかしていない。むしろ悪党に殺されかけたって。 関係者みんな多い。 お前らそこまで考えてやったってのか。 俺ら頭脳ハスカは。 だから実際に捕まって死んでみせるなんて危険なトリックが必要だったのね。とんでもない子供たちね。 でも本当の本番はここから。 まだ第一ラウンド取っただけ。 気を抜けない。 みたいな気を抜けない。 ああ。 打ち上げるような空気じゃねえのはわかってんぜ。 俺たちを穴にはめて。 殺そうとするような軌道で計算高い連中だ。 気を引き締めていかないとな。 もう二年半になるか。 四方法にはとても良くない子供たち。 ああ。 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 あ。 あ。 ああ。 è possibile di viaggiare nel metaverso e sa com'è ha guadagnato i poteri Akeshi comunque l'avevo sempre detto che era un grandissimo bastardo Akeshi no il tempo è sempre lo stesso l'universo praticamente ce ne sono solo due cioè il mondo reale e il metaverso che praticamente è una proiezione distorta del mondo reale basata sul come la gente percepisce l'ambiente intorno a loro quindi cambia da persona a persona invece il tempo il gioco inizia praticamente nel presente e poi fino ad adesso praticamente giochi un flashback cioè sei tu che praticamente ti ricordi le cose fino ad arrivare ad adesso che siamo ritornati proprio al tempo in cui è iniziato il gioco perché praticamente il gioco inizia proprio adesso e poi parte tutto con tutti i flashback fino a stamattina scusa ma sono ancora un po' confuso dalla quantità di informazioni che mi ha ricevuto che mi ha ricevuto fino ad adesso il gioco inizia che mi ha ricevuto anche il risultato di ricordo Ho capito non bene. Il nostro corso gratuito è così da prendere. Ciao Parotz, buongiorno, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Non c'è un po' di più. però è resa da malvagio alla fine ma hai capito? hai intuito qualcosa Barotz è calcini è certo sto compito come prescelto ho Noi Chissà, cioè... Chissà se possiamo continuare ad alzarci i rapporti con gli altri. Grande Morgana. E poi quella parte di Morgana ancora non la bianca viva. Eheheheh, posso salvare! Eheheheh! Eheheheh, figurati Paroz, ci mancherebbe. Anche se non mi ricordo effettivamente che cosa ho fatto. Mi sa che non ho fatto nulla. Eheheheh! Scusate ma ho tirato ad avere ogni tanto degli attacchi di tosse. Ciao Tamikil, grazie mille di essere passata, buone feste anche a te. Eheheheh! 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 Aha! Uuuuuh! Eheheheh! 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 Ok! Eheheheh! Eheheheh! Ok! Vediamo un po' che succede... no paro secco non mi ricordo proprio però mi fa piacere se qualsiasi cosa io abbia fatto gli è stata d'aiuto se posso dare una mano la do sempre volentieri ma quindi noi siamo praticamente reclusi in casa non possiamo proprio uscire e soprattutto il fansite non esisterà più ah forse ci possiamo incappucciare si c'è il carlino di natale è il carlino natalizio però ce la devono far vedere comunque a scuola che il natalino vediamo se possiamo fare comunque qualcosa bbb arriva che arrivava mishima ah no ancora esiste il fansite ah è vero perché poi ci dobbiamo bbbb chissà che che forma avrà il palazzo di Shido ma non ci possiamo incappucciare dai abbiamo il cappuccio abbiamo la felpa col cappuccio eh vedi infatti tranquillo non ti preoccupare sul giro sono incappucciato nessuno può riconoscermi così che potrà pensare che potrà pensare oltre toccano sorry notte nino si tagliere ok ok coro se o no io tolige jocca zinzen da me ne hai detto no 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 Chissà che... Ma... Cioè non è un idea stufida effettivamente Però è vero non sapendo nulla di lui come facciamo a capire Cioè non c'è... Cioè non c'è... Cioè non c'è... Oh! È un politico modello No, non c'è stato tanto d'aiuto E quindi? Eh... Non abbiamo scoperto un cavolo ragazzi Cioè non... Non sappiamo nulla di lui Eh, certo, mancano pochi giorni alle elezioni Sì, no, lui praticamente ha la vittoria in tasca Ah... Ah... Però non... Cioè non ci sono... Servono delle... Cioè... Do... Cioè... Il... Il poster lì Carino Non ci avevo fatto caso Ma posso andare in giro? No Ma posso almeno fare gli esercizi? No Posso... Posso... Dormire? Eh... 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 Ma tanto che... Cioè poteva anche cambiare la... La domanda sul fansite Se siamo innocenti o meno Se siamo innocenti o meno Ma... 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 Scusate ragazzi se svanisco ma... La mattina... Ho presa brutta con la tosse Direi di no E non mi fa proprio muovere Cesare Cioè... Eh... Si Però... Su una cosa hai ragione Cesare Cioè... I memento non erano finiti Perché noi avevamo raggiunto la fine dell'ultima sezione E c'era una porta chiusa Quella porta si apre solo dopo che abbiamo finito un palazzo in teoria dovrebbe essere quello di Sae, quindi quella parte dovrebbe aprirsi adesso, quindi no, sicuramente quando inizierà la vera e propria missione, cioè quando mette il contello a rovescia in alto a destra, potrò tornare nei memento forse? Sero! Non ti preoccupare Aro Adesso li sistemiamo tutti e due Non ti preoccupare Allo ci sono La situazione è che dopo Sido Hai il senso del Palais Ci hai i vieti che non ho capito a fare il nome di Palais? Eh, vabbè 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 La prima cosa non ho capito che non ho capito a pensare Vabbè Vabbè Divino che. Il certo che ti sia benvenuto... Non è cosa che sia difficile... Hanno scelto gli spi e i ricordi... ...che non è successo... Non è così difficile... ...dia come si è un po' un grande... ...e nessuno... ...il certo che non si è difficile... ...dia non è vero... ...che mi piacere... ...dia non è vero... Ah, l'auto È arrivato la rotina Ah, c'è proprio lui dentro l'auto Come ha fatto però lui a dimenticarsi Che era il tipo che l'aveva denunciato Cioè questa non Tranquilla Morgana Oh Cioè Ci deve essere qualche Cioè dovremmo riuscire a intuire qualcosa Dalle frasi che dice Cioè dovremmo riuscire a intuire qualcosa Ma Cioè non è che ti puoi avvicinare così E parlarci Oh Oh Ha 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 è vero ma oh minaccia si ora si no non 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 si è eh sì eh ciao pinguino buongiorno ben arrivato come la va tutto bene è l'uovo che mi ha accusato proprio proprio lui Ryuji vabbè rovinato la vita esageriamo sono sopravvistito al 19 perché si poteva non sopravvivere vedete che questa mattina pinguino ho un ho un po' un po' stordito ieri ho fatto un po' i bagordi di questa mattina sono molto stordito però tutto subato tutto bene dai non 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 ne ha detto non Dessie era già un grandissimo bastardo all'epoca Vabbè ma quella c'è non fa niente oramai va bene E comunque sia se gli facciamo cambiare la mentalità dovrebbe confessare tutto Quindi dovrebbe decadere anche questa accusa Presumo Eh quello vuole diventare il dominatore supremo del mondo Non c'è o chissà se ci riusciamo a capirla la sera tanto non posso fare nulla vero no apparentemente no niente 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 nulla di nulla allora ragazzi scusate vi assento due minuti torno subitissimo beh abbiamo trovato un'arma di livello 2 dai non riesco l'ho afferrato al volo no l'ho mancato bisogna fare un bel po' di fratture bisogna farmare le reliquie luca e fare un bel po' di fratture dai l'hai fatto nello stesso istante che ho dato la spadata è stupendo la cosa più importante secondo me rodo la mano rodo la mano rodo la mano ok lascia perdere io ragazzi pianeta paradiso però c'è una pietra eretta a a a a a Eeeeh Eee, vadaci Io ti vedo, bizzoga Ce la facciamo Eeeeeeeh E abbiamo anche finito Ma che forza ragazzi Vabbè adesso ha una zampa sola Ma come fa? Ah no c'è ancora Poverino un po' mi dispiace No Uuuuh Nomitama Più ti avvicini alla fine Più ti stressi E' verissimo Rieccomi ragazzi Scusate l'attesa Vedi niente Ci tocca andare a dormire come sempre Ma Eh ma così mi riconoscono No non mi posso più incappucciare No anche bevuto Leonardo Comunque mi sa che alla fine Abbiamo pochi giù No vabbè Della scadenza era il 18 Sì è tipo Al 3% Pinguino Ora vai Ma 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 Il problema è che No 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 mi fa Non mi fa far nulla Ragazzi E apparentemente si finguino però se non riusciamo ad indovinare come lui vede l'edificio Da Riuji Diverse live per fare tutto Addirittura Ah Ok È una nave? Mette Veleggiavo il futuro Verso il futuro radioso So